Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa diocesana di Pescara a Penne. Dopo che ieri la cabina di regia nazionale ha certificato l'attribuzione all'Abruzzo della zona rossa, un'ordinanza della Ministro della Salute conferma la nostra regione appunto in zona rossa. Dovrebbe entrare in vigore alle 24 di oggi. Con l'entrata in vigore di questa ordinanza scatteranno tutte le misure previste dal decreto ristori per le attività colpite dalle restrizioni e per le famiglie che hanno i figli in didattica a distanza. Lo ha comunicato il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. Sono in tutto 22.547 casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto all'altro ieri si registrano 705 nuovi casi di età compresa tra i 5 mesi e i 97 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 102, di cui 43 in provincia di L'Aquila, 7 in quella di Pescara, 20 in provincia di Chieti e 15 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 18 nuovi casi e sale a 739 di età compresa i nuovi casi tra i 63 e i 95 anni, 5 in provincia di L'Aquila, 4 in quella di Pescara, 5 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo. 8 casi sono riferiti a decessi avvenuti nelle scorse settimane e comunicati solo ieri dalle Asle. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche i 6.430 pazienti dimessi o guariti, 171 in più rispetto a due giorni fa. Le attualmente positivi in Abruzzo sono 15.378, 516 in più rispetto all'altro ieri. Tra ieri e l'altro ieri sono stati eseguiti 4.648 tamponi, 661 pazienti, 3 in più rispetto a due giorni fa, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 75, uno in più rispetto all'altro ieri, sono invece in terapia intensiva, mentre gli altri 14.642, 512 in più rispetto a due giorni fa, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asle. Del totale dei casi positivi registrati tra ieri e l'altro ieri, in provincia di L'Aquila ce ne sono stati 301, in quella di Chieti 86, in provincia di Pescara 102, nel Terramano 209, fuori regione 1, mentre 6 sono quelli per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. È stato sottoscritto l'accordo tra Regione, Federfarma e Assofarm, che consentirà a breve la somministrazione di test sierologici in tutta la rete regionale delle farmacie convenzionate, pubbliche e private in Abruzzo. Lo rende noto l'assessore regionale alla salute, Nicoletta Veri, dopo l'intesa firmata con il presidente regionale di Federfarma, Giancarlo Visini, e di Assofarm Venanzio Gizzi. Nella prima fase, l'attività delle farmacie si concentrerà sul supporto allo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche, ma in base all'andamento dell'epidemia e dell'esito della campagna, potrà successivamente essere estesa ad altre fasce di popolazione. Immediatamente dunque potranno accedere, su base volontaria, al test gli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie, medie e superiori, oltre ai loro familiari conviventi. I risultati saranno inseriti direttamente dal farmacista nella piattaforma ATRA della Regione, nella quale confluiscono tutti i dati dell'andamento epidemiologico. Per ogni test eseguito, il sistema sanitario regionale riconoscerà le farmacie a un costo pari a 15,58 euro, la stessa cifra che verrà richiesta a tutti coloro che non rientrano nelle categorie per le quali il test è gratuito, che volessero sottoporsi all'esame. Per la prima volta in questi ultimi decenni si è mostrata particolare attenzione al presidio ospedaliero San Camilo di Atessa da parte dell'ASL di Chieti, Lanciano Vasto e del suo direttore e della Regione Abruzzo, che hanno fortemente voluto investire su questo presidio per l'emergenza Covid. E' proprio grazie alla determinazione della Regione Abruzzo che anche sui tavoli ministeriali si è sostenuta con forza la necessità di ricomprendere il presidio ospedaliero nella rete Covid. Quest'impegno ha permesso di destinare al San Camilo fondi per 2 milioni di euro nella prima fase della pandemia per raggiungere un obiettivo dalle tante ricadute, trovare risposta a una richiesta crescente di posti letto dando un ruolo a un ospedale abbandonato a se stesso e disporre della liquidità necessaria per adeguare in fretta il presidio chiedendo aiuto al mondo delle imprese e alla società civile. Sono stati fatti investimenti come mai prima sotto il profilo strutturale dell'innovazione tecnologica e oggi l'avanguardia diagnostica passa anche dal San Camillo, così ha detto il presidente della Regione Marsilio secondo cui se i lavori non sono ancora partiti è perché la delega al sottoscritto, ha detto Marsilio, come soggetto attuatore è arrivata con grande ritardo. Nonostante critiche e polemiche territoriali abbiamo fatto un'operazione a concluso che ha dato una prospettiva al San Camillo e ai suoi operatori. Per i sindacati dei pensionati SPI-CGL, FNP-CISL e WILP-WIL la Giunta regionale deve con urgenza spiegare il ritardo e dire quando saranno disponibili dove e come trovare i vaccini contro l'influenza. In un momento di grande emergenza pandemica in cui siamo chiamati ad arginare una malattia come il Covid-19 che si è dimostrata feroce soprattutto con anziani e persone fragili, osservano i sindacati una delle difese che possiamo usare è quella della vaccinazione antinfluenzale in particolare nelle persone ad alto rischio di tutte le età per evitare che i sintomi influenzali possano essere confusi con il Covid. Purtroppo sembra che vaccinarsi per gli abruzzesi, in special modo per gli anziani, stia diventando un grande problema. Ad oggi la Regione Abruzzo ha consegnato ai medici di famiglia dosi di vaccino insufficienti per coprire le richieste e soddisfare le prenotazioni già programmate. Da 20 giorni la comunità di Spoltore, che conta circa 6.000 abitanti, è priva dell'ufficio postale dopo un assalto notturno da parte di malviventi. Nemmeno l'ufficio mobile, annunciato da poste italiane nei giorni scorsi, è mai entrato in funzione. Immaginabile la conseguenza che la popolazione soffre con gravissimi disagi per non poter ritirare denaro, pagare bollette, fare spedizioni o avvalersi dei servizi bancari, dice il presidente del Consiglio Comunale di Spoltore. A pagarne le conseguenze sono più di tutti gli anziani e coloro che non hanno i mezzi per potersi recare nelle filiali più vicine di Villa Raspa e Santa Teresa, senza considerare che questa incresciosa situazione, dice il presidente del Consiglio Comunale di Spoltore, costringe a numerosissimi spostamenti che potrebbero essere evitati e andrebbero ridotti al minimo nel rispetto delle restrizioni anti-Covid-19. Scadranno alle 16 di martedì prossimo i termini per presentare le domande di accesso alle risorse a fondo perduto previste dal Governo. Le scadenze riguardano nello specifico le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche, che non abbiano però già ottenuto contributi previsti da un precedente avviso. L'intervento vuole assicurare la prosecuzione degli interventi a sostegno delle attività sportive di base. Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri metterà a disposizione delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche contributi forfettari a fondo perduto da attribuire secondo criteri e modalità indicati nell'avviso che è stato pubblicato sul sito www.sport.governo.it Oggi è sabato 21 novembre e la Chiesa celebra la memoria della presentazione della Beata Vergine Maria che è anche la giornata delle claustralie, alle quali vanno dunque gli auguri di tutti noi di Radio Speranza. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo coperto fino a tutto il pomeriggio, nuvoloso nelle prime ore della sera, è coperto in tarda serata con temperature da 5 a 11 gradi e venti moderati e nelle zone interne pioggia fino a tutto il pomeriggio, è cielo coperto in serata con temperature da 5 a 7 gradi e venti deboli. Domani si prevedono sulla costa cielo nuvoloso fino a metà pomeriggio, molto nuvoloso nel resto del pomeriggio e nelle prime ore della sera, è coperto in tarda serata con temperature da 5 a 11 gradi e venti deboli e nelle zone interne cielo nuvoloso fino a metà mattino, molto nuvoloso dalla tarda mattinata a metà pomeriggio, sereno nel resto del pomeriggio e nuvoloso in serata con temperature da 5 a 9 gradi e venti deboli. Il mare è previsto da mosso a molto mosso oggi e mosso domani. Ed è tutto per questa edizione del nostro radiogiornale. Da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa di Cesana di Pescara Penne, grazie e a risentirci. Grazie a tutti.